Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon Dì, l'augurio che us fass di volei ben di amare la musica, perché la musica ha il più bel regalo che Dio aveva fatto all'uomo e i musicisti che compongono e che suonano la musica sono veramente un che fa dal ben all'umanità interna. La musica è una roba, la descrizione di ciò che provano il nostro cuore è una descrizione che vale più di che speravano, non solo, ma che fa bene a tutti gli uomini, capito? La musica è proprio a te, se tu ti butti, se tu la giudis, ti chiapa su di pesce, ti porta fuori dal tempo, dal spazio. E tu sei la musica anche tu, la musica è un atto di amore che ti chiapa su proprio a te. E quando finisce la musica ti sa mai di finire anche a te. Quindi più io credo che la musica è la vera lingua di Dio, perché fa bene a tutti gli uomini. e pensate a voi altri, la musica è proprio a tutti i confini politici, culturali, religiosi e di tutta l'umanità. La musica è di tutti. Buona giornata e buona vita!